Avete presente quel sogno da bambino? Non un sogno in particolare, ma tutti ne avevamo uno, a seconda dei momenti, a seconda del contesto, a seconda dell'età. Per lo più si trattavano di sogni materiali, chiaro. Cos'altro poteva sognare dopo tutto un bambino di 10 anni, 25 anni fa. Chi sognava di poter volare, chi non l'ha mai fatto, anche da adulti forse. Chi invece sognava di poter avere la vista a raggi X soprattutto da adulti? Chi di avere tutti i soldi del mondo per comprarsi le caramelle? Io durante l'estate andavo nelle sale giochi, cambiavo le mie mille lire o mille lire in gettoni e li consumavo tutti nei videogame. Finiti i gettoni, passavo in rassegna tutte le gettoniere nella speranza di trovare un gettone caduto e qualche volta la fortuna mi sorrideva. Tutte le altre volte invece non mi restava che tornare a casa e allora sognavo di poter avere tutti i gettoni del mondo per fare tutte le partite che volevo a tutti i giochi. non sarei stato costretto a scegliere a quale videogame giocare per quante partite. Fantastico. Oggi a 35 anni sorrido a quel bambino di 25 anni fa e gli dico ci sono riuscito! Scambinato arcade con 2600 giochi, grafiche personalizzate, monitor 4 terzi interamente restaurato e riportato a nuovo, gettoniera funzionante, 6 tasti più gesti di controllo, solo giochi originali e retro, il tutto comodamente da casa e potrai giocarci tutte le volte che vuoi con tutti i membri della tua famiglia! Vabbè ci posso giocare? Beh!